Che è vero, prima Marcello Chirigo ci dicevi che l'Inter ha mantenuto la stessa rosa, l'Inter ha mantenuto lo stesso allenatore, anzi ha aggiunto degli innesti importanti, però c'è chi dice e sostiene che all'Inter quest'anno manchi un po' di grinta, motivazione, cattivere rispetto all'anno scorso. Perché l'anno scorso l'Inter che scendeva in campo te la risolveva alla mezz'ora di gioco e non soffriva. Vittoria, questo è un altro discorso, l'Inter resta forte perché quella era la squadra che aveva dato alla Juventus 23 punti e ha distaccato tutti gli altri, quindi la squadra resta forte, poi che hanno dei problemi, lo vediamo che qualche problema c'è, se ne ha reso conto anche lo stesso allenatore che lo dice anche in conferenza. E quindi effettivamente può essere che dopo un anno in cui finalmente lo scudetto tanto anelato, la seconda stella era arrivata, la seconda stella no, tanto desiderata, l'hai portata a casa, l'hai cucita sul petto, adesso gli dica, sai che c'è? Perché io tutta questa motivazione, questa voglia, questa greca, non ce l'ho, più che altro si vede in campo, cioè lo dice il risultato, lo dice la partita, il tabellino, tu stai faticando delle volte l'anno scorso, la partita la chiudevi veramente entro il primo tempo. Soprattutto quella col Torino, in dieci dopo venti minuti gli fai cinque gol al primo tempo, e invece il Torino avrebbe meritato un compareggio. No, potevi pareggiare all'ultimo minuto, potevi pareggiare, perché c'è stata una disattenzione clamorosa, che poteva finire 3-3, ma non è un Inter con la fame, come dicevamo prima, è un Inter che non ha paura di giocare. Sì, che non domina più le partite, non chiude le partite, è vero, è vero, è vero. Ecco, quello Young Boys, ragazzi, per me è deluditissimo, ha preso un palo quello che sta tremando. Potremmo porci un altro tema di discussione, l'Inter, l'abbiamo sempre detto, che ha due formazioni, cioè una rosa talmente completa che ha due squadre, secondo me non ce l'ha. Sono d'accordo con te, perché quando giochi con le riserve, se non metti dentro i titolari non porti a casa la partita, e con il Young Boys è quello. E' un semplice motivo che io con lo Young Boys, dove una squadra che adesso è terzo ultimo, o comunque è bassissima, una squadraccia, una squadraccia, cioè è possibile che ti ha dominato? Nel primo tempo ti ha dominato, io con quella squadra, anche se tu non metti Lautaro, Turano, Di Marte, ma non dico di vincere 3-0, ma almeno 1-0 lo fai e poi te lo gestisci, almeno quello, ma invece non sono stati in grado nemmeno di fare quello. Assolutamente, ha dovuto mettere Lautaro, Turano e Di Marte. E se ne hanno risolto loro tre, con tre passaggi, con un colpo di tacco, mette in mezzo la palla e arriva Turano. Mi fa tra virgolette un piacere, poi vabbè, è chiaro che ognuno la pensa a modo suo, che qualcun altro abbia notato che l'Inter, mercoledì contro lo Young Boys, non abbia fatto una prestazione da Inter. Assolutamente, è oggettivo, cioè che l'Inter fa tre punti importanti, ma li fa al 94, l'ultima in classifica. È vero che ha sbagliato un rigore, quello che vuoi magari la partita cambia, perché al 56 c'è un rigore che sbaglia. C'è chi ne sbaglia due a partita ogni anno, ogni stagione, noi sbagliamo due a partita. Poi anche i giocatori, cioè i giocatori, Arnautovic. Non tutti la pensano così. Ragazzi, Arnautovic non è un giocatore da Inter. Ma qui, sono stato qui in trasmissione. Dai, dici, dici che adesso hai sbagliato la pietra. A me è stato detto che l'Inter è andata a fare una passerella. Fusato, Fusato, lo saluto, tanto si stava guardando, ma se vuole viene qua, perché tanto abita qua dietro. Fusato, ad esempio, diceva che non è vero. Ha avuto l'occasione anche l'Inter. Che l'Inter ha meritato, che non è vero che è stato dominato dallo Young Boys. Ognuno poi la vede a un suo obiettivo. Io però noto che qui al tavolo stasera, anche tu penso, no? Anche se ti stai rimirando, Luc, ma? No, no, perché lunedì penso che tutti abbiamo visto una partita non piacevole. Ma poi l'Inter ha avuto le occasioni, però è preoccupante che ne ha avute anche tante lo Young Boys. Ne ha avuto troppo lo Young Boys. Esatto, questo non è che dici. L'Inter ha avuto due occasioni e non Young Boys 3. La Young Boys a me ha ricordato la partita di martedì dello Stoccard che ha stradominato la Juve. No, vabbè, no, non è quelli belli, però. Allora, ragazzi, però la riflessione che viene da fare è la seguente. Sia la Juventus con lo Stoccard che poi hai perso 1-0, ma meno male che hai perso soltanto con un gol di scarto perché lì avresti potuto tranquillamente prendere 3-4 gol di scarto. Dall'altra parte, lo Young Boys e quindi l'Inter che riesce, grazie a una giocata al 93esimo di Turam, a portare attaccato a tre punti fondamentali, comunque entrambe le protagoniste del big match di domani, quindi del derby di Italia, arrivano da un incontro di Champions League in cui hanno avuto dei problemi. Però io ti dico, la Juventus avrebbe dovuto perdere 5-0. Sì. L'Inter non dico che doveva perdere, no, 0-0. C'è una cosa finita 0-0, perché siccome è qualche occasione, 0-0 era più giusto. 1-1, no, 0-0. No, ma 0-0. Sì, per dire un pareggio. C'è un pareggio, perché loro hanno preso un palo, portiere battuto lì, clamoroso. Ma quel sintomo è il fatto che entrambe le squadre, forse la Juventus più dell'Inter, abbiano delle situazioni da risolvere, dei gap da colmare, delle lacune da sistemare a vellare. L'Inter soprattutto in difesa. In che modo? L'Inter soprattutto in difesa ha problemi. In che modo? In che modo? Domani è una gara da dentro e fuori, perché l'Inter domani deve vincere a tutti i costi, come la Juve vuole vincere a tutti i costi. Quindi vedremo adesso come andrà a finire. Spero che sia una bella partita e poi vedremo. Adesso tira la fuori, la buona. È ghigno, guarda, è ghigno. No, perché tutti mi stanno dicendo, no, beh, dai, firmiamo per un pari. Ma perché? Ma perché la Juve con questa vita non se la può giocare? Non ho capito. Io ti dico che alla luce proprio di quella brutta sconfitta, brutta prestazione, anche se limitata ad 1-0 di martedì con lo Stoccano, io penso che sia Motta, sia i giocatori l'abbiano resettata con la partita, mi hanno detto, va bene, abbiamo giocato malissimo, è andata male perché abbiamo visto una Juve completamente diversa da quella che abbiamo visto finora, no? Che era una Juve che non subiva tanti tiri, tante occasioni, che non faceva, non era mai succube dell'avversario, no? Io ti dico che domani, Tiago Motta, a San Siro... Farà la partita. La prestazione gliela fa fare, secondo me la Juve non solo non parte battuta, può anche vincere in casa. Certo, ma perché no? Ma certo, ma non può vincere la Juve? Io prima ho sentito un altro tipo di frase. Io ho detto, io ho sentito prima, da una vocina, di quelli presenti qua. Non l'ho sentito. La Juve domani vince a San Siro. Ma ci mancherebbe? Il Juventino ti vuole che perde? Ma cosa ho detto? Scusa, tu cos'hai capito? Può vincere, potrebbe vincere, perché non può vincere questa Juve qua. No, ti voglio godere. Io ho detto che può vincere lo scudetto. Io prima... Ma io sono contente. No, ma sai cos'è? Ma io spero di vincere. Che se io dico quella cosa che ho detto a lui, cioè tutti poi a casa, dico ecco, ecco porto sfiga, porto sfiga, ecco, 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 ce lo stiamo tirando da solo. Perché i pronostici non li puoi mai fare. No, no. Cioè se li azzecchi, sei bravo, bello, aveva detto, se non li azzecchi. Se come è barato, si porta oltre, lui va oltre. Il peggolino, ma domani ci sarà il peggio. Lui va oltre, esatto. Lui va oltre. No, ragazzi, lo penso. Però se lo fa uno di noi, chiaramente subito viene additato, eh, cos'è, l'hai portato sfiga, io non voglio portare sfiga. Dico soltanto che ragiono, siccome penso che... Ragioni, sei juventino e speri che la tua squadra venga. Ma al di là dello juventino, io al di là dello juventino, ti dico che penso che Tiago Motta, quella partita le abbia dato molto fastidio. Gli ha dato fastidio anche i giocatori, i giocatori vogliono dimostrare di non essere quelli in quella partita. Hanno la possibilità di rifarsi in una partita importante contro un avversario molto forte che anche lui ha dei problemi, a livello sia tecnico ma anche di, 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 no, ma anche di fortunati. Perché anche loro, oh, domani, gli manca il signor Ciananoglu, che non è roba da poco, il signor Acerbi, che non è roba da poco. Quindi, poi è chiaro che pensano, secondo me, pensano di più quelle della Juve, perché la Juve è Bremer, perdono il tasso di gioco, Cominers, Nico González, anche Douglas Lewis, perché qui tutti parlano male di Douglas Lewis. No, 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 sì, era comunque un giocatore utile. Sì, a livello numerico sì. Ma vogliamo paragonare adesso Douglas Lewis ad Arthur? No, vabbè, 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 quello è un giocatore inutile. Però devi ammettere che in questo momento non è lui. Non è lui, vabbè. Se non devi far giocare per fare un altro rigore, lasciò la casa, quindi non è il responsabile. Quella è la sfiga che capitava anche a De Ligt, non è quello, secondo me probabilmente non si è ancora trovato con Tiago Motta, non lo so, però io quando lo vedo in campo come gestisce il pallone, io vedo qualità nel giocatore, poi è stato sfigato, è stato sfigato e va bene, però anche l'altra sera, Tiago Motta pensa di metterlo trequartista contro lo Spoccata. Quando ti fa male nello riscaldamento, non è che dici, ah vabbè, pazienza, Lilian, no Lilian, non è il papà, Kefren, giochi tu, mentalmente il giocatore che deve entrare, che all'ultimo punto gli dicono devi giocare, ma non è mentalizzato sulla partita come quello che deve giocarci, e infatti Kefren Turan, come anche tutti i resti della squadra, gioca male, ma gioca anche male la squadra, per il semplice motivo che tu l'hai impostata, tu quando l'hai studiata e l'hai preparata con la tua squadra, tu l'hai impostata col trequartista che è Douglas Lewis, e ci sono, e c'è Fagioli che gli fa da copertura dietro, cioè tu l'hai impostata, e con McKennie che fa da aiutante, no? Tu l'hai impostata in un'altra maniera, nel momento in cui ti manca quel giocatore devi reimpostarla, e chiaramente la squadra ha sofferto secondo me, quello l'ha anche sofferto, è come la sofferta direttamente anche il giocatore. Marcello, come mai Ildiz gioca esterno e non lo fai giocare dietro Vlaovic, che secondo me potrebbe rendere 100 volte di più. Questo è un altro argomento, è possibile che non lo vedi, ecco perché tu dici 0 gol, ma finché giocherai esterno non lo fai da gol. Dico io perché, tu non lo metti vicino alla punta, perché giocando 4-2-3-1, come vuole giocare Motta, non hai l'esterno sinistro. Cioè tu non hai un esterno sinistro da mettere nei tre dietro, quindi se tu metti Ildiz dietro la punta, chi mette a sinistro? Ma anche perché hanno comprato quasi tutti gli esterni destri. Esatto, Nico González si è considerato, gioco a destra. L'alternativa, Ildiz era chiesa, e chiesa le cedano. Vabbè, metti Owea e rientra. Sì, meglio infatti penso, io penso, io penso che domani, io penso che domani, io penso che domani potremmo vedere il Diz dietro. Giusto. L'ho visto a fare il trequartismo. Bravo, ma sono d'accordo. O Seisau a sinistra e a destra, o Meccanica l'ha già fatto il tornante di destra, o Owea. Ah beh, certo, Owea. Quindi potremmo anche vedere questo tipo di... Allora, tra poco vi propongo anche le formazioni. Non ci arriviamo, ragazzi, ci arriviamo con calma. Per il gioco che fa con Seisau, che è uno che tiene attaccato il pallone ai piedi, rientra e calcia col destro. Se lo metti a sinistra perde di qualità, secondo me. Ma lui gioca in due o due le posizioni. Per me no, perché è un gran gioco. Forse, forse si è abituato. Beh, lui è un gioco, è tanta roba, ragazzi. Però può fare anche la sinistra. Sì, sì, sì. Ildi deve giocare lì. Dal momento che vi ho fatto ascoltare la provocazione di Diago Motta, vi faccio anche ascoltare la risposta di Enzaghi, che non si è appunto tirato indietro. Allora, ascoltiamoci proprio Enzaghi su Inter e Napoli. Favorite, eh? Ha confermato il mister. Sentiamo. Ma lo sapete come la penso, insomma, per quanto riguarda le griglie, favoriti, non favoriti. Io penso che ci siano tante squadre. Quest'anno, l'ho già detto, sarà un campionato aperto perché ci sono tante squadre che hanno investito tantissimo e quindi hanno colmato un grandissimo gap. Poi dipenderà, dipenderà. Però, come ho detto prima, secondo me sarà un campionato molto più equilibrato rispetto agli ultimi due. Ecco, allora ragazzi, mi piace Enzaghi perché dice io non voglio commentare le griglie. Sapete come la penso? Tranchant non lascia, no? Non lascia pigli. Sì, anche se però comunque il sassolino dalla scarpa se lo toglie, caro Thomas. Sì, però dice... E risponde in un qualche modo a quanto detto da Tiago Morta. Sì, ma lui dice siamo in un momento positivo di risultati ma non di gioco. E la realtà è questa, bisogna essere obiettivi. Dai. Faccio una piccola incursione per darti due notizie. Tanto una che diceva anche Matteo prima, si è giocato il classico questa sera, Real Madrid-Barcellona, finita in pareggio. Un bel poker. 0-4 per il Barcellona, doppiette Lewandowski, la Mijamal e Rafinha. Dopo i quattro gol dati al Bayern. Sì, strano che abbiano fatto gol questi marcatori. In casa del Real Madrid, fare quattro gol in casa del Real Madrid... Soprattutto il Real Madrid che non ha fatto gol. Sì, bravo. Un messo al Barcellona succedeva. Sì, sì, ma il Real Madrid non ha fatto gol, quindi questa è la notizia particolare. Con il Real Madrid... Che intesa al campionato? Barcellona è in testa al campionato. Lo era il Real Madrid. No, 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 era il Barça, adesso era il Real Madrid. Adesso è il Real Madrid con il Real Madrid che probabilmente lunedì festeggerà Vinicius come pallone d'oro. Barcellona gioca con due sterne di 17 anni, ragazzi, sia a destra che a sinistra, due ragazzi... Ma come la nostra Serie A, io non capisco questa tua frecciatina, Thomas. Come la nostra Serie A non capisco questa tua frecciatina. Non li abbiamo, li facciamo giocare... Mi tirate il ballo Camarda, me ne vado. Mi alzo e vado via da lui. Non parlo di Camarda. Ma è molto affascinato il tifoso che si è preso il Daspo per entrare in Camarda. Savona? Savona. Savona. E altra cosa, ai microfoni dei colleghi di Sky, sta parlando Sean Soiano, direttore sportivo del Verona, quindi non Zanetti, allenatore del Verona. Ma sintomo di un esordio? Allora... Cioè, scusatemi, di un... Esonero. Esonero. Il contrario di esordio. Senza un turno infrasettimanale di mezzo ti avrei detto, dopo la sconfitta interna col Monza, e dopo questa ti avrei detto possibilmente sì. Invece lui la giustifica dicendo, ho deciso io di andare davanti alle telecamere per preservare il nostro allenatore, lo conosco, è giovane, per fare in modo che possa pensare già da stasera alla partita di Lecce. Martedì c'è il Lecce-Verona. Mamma mia, che partita, ragazzi. Lecce-Verona. Chi perde, sono d'accordo. Sono d'accordo. Se perde il Lecce, va via Rotti, se perde male Martedì, sono d'accordo. E se pareggiano... Vanno via tutte e due. Non so se vanno via entrambi, ma uno dei due potrebbe sottare. No, ma se perdi male Martedì, rischi veramente il pastore. Perché sono situazioni completamente identiche. Quale? Il Verona ne ha preso sei stasera, il Lecce l'altra volta con la Fiorentina. Ecco, diciamo che il Lecce ha perso di una. Ha reagito oggi il Lecce. Nove il Verona, mi pare. Nove punti il Verona, sei punti... Cinque punti il Lecce. Cinque il Lecce, è penultimo. Però il Verona sta entrando in un vortice risultati, insomma, un po' positivo. Io credo che se dovesse perdere... Cioè la sconfitta potrebbe essere ancora più pesante per il Verona che non per il Lecce. Oddio ragazzi, il Lecce è proprio in ultimo. Se perde il Lecce e Parma e Monza vincono, inizia già un gap importante. Sì, sì, sì. Però il Verona, veramente mi aspetto l'esonero poi del mister. Ah, se dovesse perdere sicuro. Certo. Allora, non so se abbiamo in grafica il prossimo turno, ma lo posso leggere io tranquillamente. Nella prossima giornata ci sono tante partite interessanti perché... Tanti scontri diretti anche. Sì, esatto. Sono scontri diretti sia per l'alta che per la bassa classifica. Perché dicevamo di Lecce e Verona, ma in alta classifica c'è per esempio Milan-Napoli e... Eccolo qua. E' un po' l'Inter anche. E' un po' l'Inter anche. E' un po' l'inter anche classifica. E' un po' l'inter anche. Guarda, guarda come operativa la regia. Mamma mia, la nostra regia ragazzi. Le fa fuochi d'artificio. Con la partita del cuore di Juric perché c'è Roma-Torino. Non so se gliela faranno fare, ma... E se risolverò domani. Eh sì, se perde domani a Firenze non la fa. Domani vince. Domani vince. C'è questo rischio. Però ecco, tra il prossimo turno e l'altro ancora, dove... Beh, forse l'unico scontro diretto sarà Napoli-Atalanta. Secondo me pian piano cominciamo a vedere un po' i veri valori di questo campionato. Ma Conte già ricadito che è un solo giorno per il Parlamento. Poverino. Genna Fiorentino quando si gioca? Genna Fiorentino. Genna Fiorentino. In che... perché? Quando si gioca? Vieni un po'. Dai. Fammela cercare. Ci tocca giovedì, te lo dico io perché... Giovedì alle 18.3. Eh, ma che cazzo volevo arrivare lì. Eh, io eh. Volevo arrivare a questa notizia. Ossia che... Non ce l'abbiamo in scaletta in realtà. No, non lo so. Non ce l'abbiamo perché in ultima ora di quest'oggi... Mario Balotelli, visite mediche lunedì, quindi dopo domani, per essere disponibile già per il turno infrasettimanale di giovedì. E portare il Genova in serie B. Un turno infrasettimanale mostruoso di Halloween. Sentitemi questa battuta becera, becera, becera. Insieme, allora, allora, io stavo commentando e poi torniamo a parlare ovviamente di quello che è il derby d'Italia. Appena arriverà Gian Piero Gasperini ai microfoni vi faremo ascoltare in diretta la conferenza stampa del post partita di questa goleada della DEA a scapito del Verona, ma ha detto questo un rapido giro di tavolo del grande ritorno di Mario Balotelli di Super Mario nella serie A. Anche perché ragazzi... Era atteso, era atteso, non è una cosa improvvisa, era atteso. Avevano nominato sia il Genova che il Torino. No, a me sono contento che perlomeno vada a giocare a Genova perché lo voleva Gilardino, l'aveva chiesto Gilardino e finalmente gliel'hanno acquistato perché sai che c'era in ballo anche lì la panchina, se restava o se non restava. Io sono contento che lui sia restato, che gli comprino anche Balotelli, anche se non so adesso come stia Balotelli, bisogna capire, lui dice vengo e spacco tutto. Io vengo, mi sono allenato, dice, però un conto è allenarsi a casa, un conto è allenarsi con la squadra e fare 90 milioni, non lo so. Però sono contento che abbiano contato Gilardino perché Gilardino, poveretto, si sta arrampicando sui vetri per fare una squadra decente da mandare in campo ogni domenica, tra l'altro gli hanno venduto dei giocatori. No, ad agosto gli hanno venduto. Capocannoniere, Vetteghi, è Gonduzza, è Portiere, è Martini, è Martini, ma sta facendo ancora un'impresa eroica, come l'ultima partita che ha giocato che prendeva 2-0 col Bologna in casa, e fa 2-2. Eh ma io sono contento per lui, quindi sono contento che torni, sono curioso di vedere in che condizioni sia Balotelli. Classe 1990, 12 agosto, 34 anni, Alberto. Di parole ne ha 34 anni, ero ancora collegato con la vecchia stagione. No, pensavo stessi dicendo, no, però ne ha 28. Allora, sotto il profilo tecnico... Non ha proprio fatto. No, a me lo succede, con alcuni giocatori è capitato. Ah, che dichiarano un'età, certo, è già successo. Sotto il profilo tecnico ti dico che paradossalmente l'Italia e la Serie A riacquisisce un talento con delle qualità assurde. Da fuori classe. E pochi giocatori nel campionato italiano calciano come Mario Balotelli. Quindi proprio come proprietà e qualità di calcio. Io ricordo... Ambro, Ambro. Questo, ok. Però potremmo citare anche per esempio Tozzi che ha detto... Brescia e Monza. Torna a giocare a 48 anni. Ma Brescia e Monza. Il calcio... No, 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 ti parlo come qualità del calciatore. Sì, ma quando era più giocatore? Brescia e Monza le ultime due squadre che ha avuto. Ah beh dai, è cresciuto e ha giocato anche nel Lino. Male, male sia in Brescia e Monza, ragazzi. Male, male, male. Sì, sì, sì. Lì, lì, ovviamente sì. L'Utto andrà a giocare in Anatolia. Anche in Burchia con una via... Anna, Anna, Anna. Ho qualche perplessità sinceramente che il treno già sia passato e che adesso lui con un po' di fatica sia costretto a rincorrerlo. Auguriamoci che quando salirà in carrozza non sia... Abbia il biglietto. Che abbia il biglietto e che non sia tanto stanco dopo la rincorsa. Perché non è facile con questo campionato completamente fisico, giocare con una mente più spenserata, sa che ormai alla fine... Voglio capire anche... Voglio capire anche... Esatto. Mi gioco con queste ultime chance, magari, anche se ho 34 anni. Le chance che gli può dare Girardino, magari ti metto gli ultimi 20 minuti. Girardino lo spronerà perché l'ha voluto. Sì, ma come dicevi te, tecnicamente non è male. Poi c'è un tiro veramente molto forte. Anche se facesse 7-8 gol, ma fossero 7-8 gol importanti per il Genoa. Uno. E poi non è che ti deve partire a titolare tutte le partite, può anche entrare in corso e ti svolta la partita e ti gioca gli ultimi 20 minuti. Perché i titolari sono Pinamonti e... Eh, ma certo. E' Cubano. C'è da dire... Vitina si è infortunato. Vitina si è infortunato, quindi è Cubano. C'è da dire che il Genoa... Il Genoa ha un sacco di infortuni, ragazzi. Ha un sacco di infortuni, ma il Genoa... Cioè, non è un acquisto ad operazione simpatia. Messia. Il Genoa non ha bisogno di attirarsi delle simpatie perché si era paventato l'ipotesi, fallimento, cambio societario, eccetera. Il Genoa ha solo necessità di punti e poi di cambiare quanto prima i vertici societari e di gol. Quindi per me, come diceva Marcello, è una richiesta espressa da parte di Girardino. Evidentemente per gli ultimi 20, 25, 30 minuti già sarebbe un successo e un calciatore che ti può dare qualcosa è anche rigorista. Certo. Quindi benvenuto. Ho sentito tutti, mi manca l'appello Matteo Moscavi. Matteo come lo vedi? Don Matteo. Scusatemi. Io avrei optato per altri profili, però insomma... Ma tipo? Svincolati. Ci sono dei giocatori svincolati su quali puntare. Beglierte, caputo, destro. 250 migliori. Qualche, diciamo, esperienza più fresca in Serie A, cioè, Genoa punta su Balotelli. Poi, ripeto, sono d'accordo sul fatto che Balotelli tecnicamente sia... Superiore a quelli che... Superiore a quelli che dico io, però voglio vedere dal punto di vista... La personalità, spesso volentieri, di Balotelli non è stata proprio... sempre positiva, eh. Io mi ricordo il motorino buttato nel mare. No, no, vabbè, ma a parte quello. Io credo... Io credo che possa fare... Possa... Se si rimette... No, ma vai tranquilla. Se si rimette posto fisicamente possa... Possa far bene. Il problema è quello. Il problema è capire quanto fisicamente pure... Anche perché adesso c'ha 34 anni. Perché non lo vediamo all'opera non possiamo giudicare. Giudicheremo per quello che... Di 31, tra l'altro, vi do un piccolo anticipo. Saremo insieme. Quindi... Sì, ad Alue. Non ho bisogno di travestirmi, mi hanno detto, sono già a posto. Ah, che benessere. Allora, 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 allora. Allora, ritorniamo a parlare di quello che abbiamo un attimo messo in ghiaccio, ma che ci terrà a compagnia fino alla fine della nostra puntata, vale a dire il grande appuntamento di domani, il derby di Italia. E quindi dobbiamo sentirci anche ancora... Che è tornata ad essere il derby d'Italia. È vero. Grazie alla stella di cartone sono riusciti a tornare al derby d'Italia. Perché prima il derby d'Italia... Cioè, oh, erano pari. Sì, sì. Siccome, allora, Brera diceva, si confrontano le squadre che hanno vinto più scudetti. Erano pari. No, però si confrontano le squadre che non sono state mai in serie B. Quindi c'è qualcosa che non quadra. Ecco, sì, anche questa cosa l'abbiamo tanto sentita. Le squadre d'Italia sono due squadre che non sono state mai in serie B. Era questo il derby d'Italia. Infatti era così. Qualcuno è stato in serie B, mi sembra. Quindi non lo fai. Guardalo come sorride sotto i baffi. Chiedo. Penso che sia questa la legge del derby d'Italia. Non torniamo a Calcioppoli. Io, guarda, tutte le volte però, perché c'è tutta questa grande rivalità con l'Inter? No? Da parte da Juventus, penso anche da parte loro. Perché quando tu vedi sul calendario Inter-Juventus, pensi immediatamente a Calcioppoli. Io penso immediatamente a lui. Io no, invece. Io sì. Non lo penso. Io sì. Eh vabbè, è stato un episodio. Io ho ancora nella testa le sentenze, ho ancora nella testa quell'estate, ho ancora nella testa Moratti che va in giro con lo scudetto di cartone e se ne vanta. Quella cosa lì mi è rimasta qua. Certo. Perché l'ho ritenuta ingiusta, continuo a ritenerla la più grande truffa calcistica mai confezionata nella storia. Loro lo so che lo pensano diversamente, ma io la penso... E quindi quando penso a Inter-Juventus mi ritorno in mente. Ma non apriamo questa questione così spinosa alle 23.12. Va tutto bene. Perché rominarci così questo clima colloquiale e amichevole e amorevole? Secondo me... Sontanto cosa penso io. No, ma certo. Ma ovviamente era modo per entrare a gamba tesa. Secondo me però voi siete un po' come lo Ying e lo Yang. La parte bianca del lato nero. Cioè non potreste esistere l'uno senza l'altro, no? C'è sempre stata questa rivalità tra Inter e Juve. Ma anche che... Però cioè tu puoi avere un rivale perché ti rende tale. Non so come dirti, no? Io senza l'Inter viverei solo che è meglio. Eh, lo so. Ma infatti qua io parlo di Inter. E Juve. E Juve, esattamente. A presidere da queste cose è proprio la rivalità sul campo di due squadre forti che ha sempre lottato. Io mi auguro che sia un bello spettacolo, anzi vi esorto a seguirla qui con noi perché ne vedrete sicuramente delle belle e spero ci sia una bella partita da raccontarvi. Detto questo, torniamo a parlare di Inzaghi, questa volta in chiave sulla importanza della partita e anche sulla condizione della squadra. Sentiamo che cosa ha detto. E senz'altro tutti quanti sappiamo l'importanza della partita, insomma, cosa... cosa comporta per la nostra società, per i nostri tifosi, per noi stessi. Sappiamo che è la nonna di campionato, quindi sicuramente non sarà una partita decisiva, ma avrà grandissima importanza. Si affrontano due ottime squadre che praticamente hanno avuto lo stesso cammino, sia in campionato che in Champions League. L'Inter ci arriva bene, ci arriva in una striscia, insomma, di cinque vittorie consecutive, però purtroppo abbiamo avuto qualche problemino che ci limiterà un pochettino in queste cinque partite che ci porteranno alla sosta. però i giocatori sono pronti, sono ben allenati e domani cercherò di mettere in campo la formazione, la migliore per fare una grande gara contro la Juve. Thomas, riparco da te. Mister dice, ci limiterà un pochettino. Che cosa? Ma non lo so quello che pensa lui. Sicuramente deve mettere una formazione adatta alla Juventus. Si parla di Aslani, che se gioca o non gioca, io lì farei giocare. Poi le vediamo, poi le vediamo, non spoiler, non spoiler. Quindi penso che dovrà fare una grande partita all'Inter, perché secondo me la Juve, come diceva Marcello, domani verrà guerrita. Però io non sono d'accordo su una cosa, Marcello, perché il mister inizia dicendo siamo alla nona giornata di campionato e non è una partita decisiva. Ora, ricordiamoci che tu ti stai giocando comunque una partita scontro diretto, perché i punti sono veramente pochi in differenza. E poi tu alla fine dell'anno per uno o due punti magari non arrivi. Quindi il fatto che tu mi dica siamo soltanto alla nuova giornata di campionato, lascia un po' il tempo che trova. Nel senso, anche la prima giornata di campionato valgono i punti, non è che non valgano i punti. Ma c'è un modo un po' di dire, su queste partite ti fanno sempre la domanda, i colleghi quando sono in conferenza stampa, è una partita decisiva? E quasi sempre gli allenatori ti dicono no, ma non è decisiva. È una risposta un po' luogo comune. Però il Dermi d'Italia, essendo oltretutto così la classifica, non può non essere. Ma bene, è un sintomo di protezione, come per dire, anche se perdono. Ma poi dentro la loro testa magari loro la preparano entrambi per vincere. Ma certo, ragazzi. Ma li ti dicono, anche scaramanticamente, ma no, non è importante. Non succede nulla. Sono sempre importanti. Tutte le partite, a maggior ragione, quando vinci uno sconto diretto vale triplo. E avete un punto di differenza, 17 punti vincere la Juve. La Juve non arriva come... non è la Juve dello Scott Garda. L'Inter se vince va a più 4, insomma... Nonostante, ve lo dico, con le defezioni. Perché le defezioni sono a capo, ma scherzo. Tutto il nuovo mercato è al J Medical, insieme a Milik. Milik fa il baregliere. Milik ormai... Ma il resto del mercato è tutto lì. Quindi capisci, andare a affrontare un Inter senza determinati giocatori che hai comprato apposta per rinforzare la rosa, non è la stessa cosa di non averli. Però io faccio punto sul carattere, sul fatto che se la sono studiata. Non a caso Motta in settimana ha detto tutti, dopo la sconfitta e la sconfitta, andate tutti a casa. Resettiamo. Riposatevi. Uscite fuori. E poi dopo ritorniamo a riprogrammarci per questa partita. Quindi proprio per dimenticarla. Quella è la partita nel passato. Sì, sì. Bruttissima partita. Però dicevi Matteo? No, dicevo che secondo me i due rinforzi più importanti al momento, la Juve li ha a disposizione, che sono Calullo e Conseisau. Beh, Conseisau. Perché dico questo? Perché in campo poi sono loro quelli che stanno rendendo di più. E per fortuna la Juve li ha a disposizione. Perché quando io vedevo unito i Copminers, sì, per carità, si vede che sono giocatori che hanno qualcosa in più, ma non erano ancora entrati bene nei giri, nei rodaggi, di Chiarromotta. Calullo in questo momento è fondamentale, perché senza Calullo la Juve in questo momento non so come giocava dietro. perché non hai Bremer, hai Danilo che... Non si capisce questa cosa di Danilo. Troppo Danilo, secondo me è un errore perderlo, Danilo. Sì, sì. Un errore sostituito da un altro. Può essere. Io continuo a pensare se è un allenatore, non lo vede, non lo vede. Io continuo a pensare se è un errore. Lo so, però se non lo vede... No, per carità. Però dico che la Juve va comunque a San Siro con i due acquisti del mercato, intanto in prestito, per ora, poi sicuramente li riscatterà, e soprattutto i due acquisti che ti hanno reso di più. Quindi è vero che gli altri ti mancano, però... No, ma è assolutamente vero. Il red di questo mercato è con menes. Certo, certo, non ce l'hai. Quando l'hai avuto, le fischi più alte le punnesse lì sopra. E lui non c'è. Lui che è arrivato anche, grazie a Gian Bruno e i suoi amici, è arrivato proprio per l'ultimo giorno di mercato, praticamente. E va bene, non volevi dare i 60 milioni di richieste? No, giustamente volevano... Guarda, Gian Bruno ce l'ha con questa cosa qua. Sì, va bene. Devi trattarlo bene, perché loro giustamente volevano i soldi. Ma t'ho capito, ma che voglio... Alla fine 54 se li sono già presi sicuri. No, 54 sono quasi sicuri. Se ne lo devono regalare. Ma t'ho capito, però... Colpa di Copminers che a un certo punto ha detto... Ha avuto malata. Non mi alleno più. Mi sento male, certificato medico. Sì, medico. Non torniamo a parlare. Sul divano a guardare Netflix e calzoshow. Chi è con i zeli? Certificato. Si guardava, però non si allenava. Sì, però anche io mi sono trovato in posti di lavoro in cui quando mi è stata fatta una promessa non è stata mantenuta, alla fine ho tirato il freno a mano. Eh sì. Com'è questa frase? Una ripiccaglia. Anch'io, in altre situazioni, mi sono trovato in posti di lavoro in cui mi sono state promesse delle cose, non sono state mantenute, allora ho tirato il freno a mano. Giù, devo vedere dove è il freno a mano. Vabbè, tu ce l'avrai, non so dove ce l'hai. Cercatelo il freno a mano. Occhio perché adesso nelle macchine nuove non è più il freno a mano così, ma è un tastino. Vabbè, è un modo di dire. No, se no c'è il laterale anche. È un modo di dire. È sempre servito. Ho frenato, diciamo. Mamma mia che scoccate ragazzi, 23-19. Però è arrivato anche e non ha potuto fare la preparazione ed è stato messo in campo neanche una settimana dopo. Sì, sì. Assolutamente. Forse il caso, tra virgolette, è Douglas Lewis che ancora non rientra nelle scelte definitività. Il caso o il caso, visto che il allenatore ogni tanto parla di caso? No, nel senso che per quello che hai investito, per quello che ci hai creduto, per come è stato presentato il giocatore, francamente un po' in ritardo. Certo. Però è anche vero che anche lui, gli hanno fatto la macumba, perché tra con tutti i rigori che secondo me neanche li ha provocati lui volontariamente, ma poi l'altra sera che doveva partire il titolare ha risentimento muscolare che poi non per fortuna non è nulla. Il mercato della Juve ti sta rendendo meglio? Sono quei due che ti ho detto io che non sono di proprietà.